Oggi guardiamo insieme gli accessori ufficiali dedicati al trentesimo anniversario di Magic the Gathering realizzati come sempre da Ultra Pro. Queste sono le sleeves proposte in confezione da 105 pezzi e realizzate con la nuova tecnologia esclusiva di Ultra Pro chiamata Apex. Nuova tecnologia che mira ad offrire una sleeve di alta qualità e soprattutto una sleeves che può essere mischiata molto facilmente durante le nostre partite di Magic the Gathering. L'artwork scelta per celebrare il trentesimo anniversario è questa che comprende molti dei simboli legati alle serie di Magic the Gathering che nel corso di questi trent'anni ci hanno accompagnato. Questo è il deck box in una confezione devo dire veramente veramente bella il modello scelto da Ultra Pro per la linea dedicata al trentesimo anniversario è la Cove Edge deck box. Andiamo a vedere come si presenta l'apertura o chiusura che dir si voglia è completamente magnetica da tre lati si chiude come puoi vedere molto molto facilmente andiamo a gustarcelo tutto nel suo complesso togliamo la pellicola protettiva hanno fatto i lavori veramente veramente bene. Dentro puoi notare come ogni dettaglio sia stato curato con questa texture con tutti i simboli delle serie di Magic the Gathering che è figata la chiusura come ti ho detto è magnetica e molto facilitata puoi notare anche l'invito per una chiusura ancora migliore del nostro deck box e esternamente sopra il logo del trentesimo anniversario e nei quattro lati tutti i simboli stampati è che bello che bello questo deck box cosa ne pensi e come il deck box anche l'album ha un confezionamento veramente veramente bello il modello scelto per questa linea il 12 pocket zippered pro binder sul retro possiamo cominciare ad ammirare questo prodotto la copertina riporta tutti i simboli dei set di Magic sul fronte sul retro sul dorso abbiamo il logo del trentesimo anniversario come è fatto dentro intanto va detto che ha la chiusura a zip e che ha poi essendo 12 zippered chiaramente i fogli a 12 tasche 20 fogli quindi un totale di 480 carte possiamo inserire nel nostro album eccolo qua andiamo a gustarcelo dal vivo logo del trentesimo anniversario nella parte bassa a destra del fronte poi tutti i simboli di Magic the Gathering davanti e dietro va che figanza sul dorso come abbiamo visto prima il logo del trentesimo anniversario e apriamolo con la nostra zip che anche lei ha il suo bel logo ed eccolo qua parte interna davanti e dietro con tutti sempre tutti i simboli che ci accompagnano che bella questa cosa a me piace un sacco voilà anche dietro sfondo opaco simbolo lucido che bellezza e i nostri fogli che già conosciamo e quindi sappiamo che l'inserimento è laterale e quindi possiamo riporre tutte le nostre carte di Magic the Gathering dopodiché chiudiamo il nostro album e voilà trovi gli accessori ufficiali del trentesimo anniversario di Magic the Gathering così come tutti gli altri accessori ufficiali di Magic the Gathering sul nostro sito lbp collecting.it sezione accessori se nello specifico vuoi trovare questi tre articoli nella ricerca articolo della sezione accessori scrivi trentesimo anniversario e voilà ti compare la lista completa seguimi per altre ricette grazie